Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Cari amici, bentornati all'appuntamento col meteo di TV6. Le infiltrazioni più fresche in alta quota determineranno ancora acquazzoni e temporali, soprattutto sui monti, sulle colline da nord a sud, sia per questo venerdì, ma anche per il fine settimana. L'instabilità coinvolgerà in modo più diretto l'arco alpino, la valpadana occidentale e i settori interni del centro e del sud, quindi colline, montagne e le aree più lontane dal mare, dove sarà facile imbattersi in acquazzoni e in propisi forti temporali. Questo discorso vale anche per l'Abruzzo. Nel corso di questo venerdì, acquazzoni e temporali pomeridiani attesi nei settori interni, dalla conca aquilana sino all'alto sangro, un po' di nubi anche su coste, prima introterra, però non ci aspettiamo particolari fenomeni annessi. Il tutto dopo una mattinata, tutto sommato, soleggiata ovunque. Le temperature in leggero aumento, massime tra i 28 e i 31 gradi, minime al di sotto dei 20 gradi, un po' ovunque accetto le coste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.